Musica Ben trovati, buon sabato, prima edizione di Ora Tg che apriamo con il mercato ittico di Acitrezza, storico mercato trezzotto che era stato chiuso il 4 settembre scorso per carenze igienico-sanitarie il consorzio ha predisposto i lavori di sanificazione dei locali e stamane ha ottenuto il nulla osta di riapertura delle attività e noi ovviamente c'eravamo, vediamo Revocato il provvedimento di sospensione dell'attività al mercato ittico di Acitrezza nel comune di Acicastello, disposto dei NAS, nucleanti di sofisticazione dei carabini con il supporto dei veterinari dell'Aspetenea che nel corso di un'ispezione avevano riscontrato inadempienze di carattere igienico-sanitario ad un mese dalle chiusure e a seguito dei lavori di adeguamento alle norme previste a tutela della salute umana il direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e del Servizio Igiene dell'Aspetre Emanuele Farruggia ha firmato il provvedimento che annulla le prescrizioni da stamane dunque il consorzio che gestisce il mercato ittico di Acitrezza uno dei più importanti del comprensione etneo ha ripreso la commercializzazione del pescato il grosso dei lavori è interessato la parte interna del fabbricato che presentava diverse incrostature nei soffitti il cancello d'ingresso in cui sono state apportate alcune modifiche per bloccare il potenziale ingresso di animali all'interno della struttura e il conseguente contatto con gli alimenti lavori sono stati eseguiti anche all'interno delle celle frigorifere nei servizi igienici sostituite le ampie vetrate danneggiate ripristinato parte dell'inviante elettrico e le uscite di sicurezza nella parte esterna una robusta gabbia a rete metallica impedisce l'accesso agli estrani nel terrazzo dello stabile il mercato ittico di Acitrezza accoglie diversi operatori all'ingrosso con suziati che ogni giorno di buon mattino battono il prezzo di centinaia di tipologie di pescato che finisce sui banchi dei rivenditori di tutta la provincia movendo interessi per centinaia di migliaia di euro impiegando compreso l'indotto circa 200 persone una fetta importante dell'economia castellese Luigi Grasso è il direttore del consorzio che ha eseguito le opere di sanificazione secondo le disposizioni dei sanitari dell'ASP veterinaria la riapertura del mercato ittico è un momento importante non soltanto per l'acitrezza ma anche per tutti gli operatori e direi anche per il compensore della Sicilia orientale perché ribadisco il mercato ittico di Acitrezza assieme a Massa di Catania ormai sono tra i pochi mercati ittici autorizzati rimasti nella Sicilia orientale quindi è importante questa riapertura è importante perché abbiamo fatto tutta una serie di opere di messa da norma messe in sicurezza come voi stessi potete notare anche dal punto di vista igienico-sanitario abbiamo collaborato gomito a gomito sia col comune che con l'interesse sindaco che ringrazio perché ha collaborato con noi in questo mesetto di lavoro ma soprattutto con gli uffici dell'ASP veterinaria il servizio veterinaria di Catania con il capito dottore Emanuele Faruggi alla riapertura del mercato ittico era presente tra gli altri il vice sindaco del comune a Rivierasco Orazio Sciacca è una grossa soddisfazione per quanto riguarda l'apertura siamo rimasti un mese chiusi che chiaramente ha dato anche un contracolpo a quello che riguarda l'economia del nostro comune ma anche per quanto riguarda l'economia dei dintorni e infatti specie per quelli che collaborano all'interno del mercato ittico siamo molto felici ma molto felici sia dal punto di vista dell'aspetto economico che dal punto di vista storico questo mercato è un mercato che risale ai tempi e quindi è un po' la tradizione anche di acitrezza per questo motivo siamo enormemente orgogliosi che finalmente superate le prescrizioni possiamo riavere il nostro mercato ittico nel nostro territorio il direttore del servizio igiene degli alimenti Emanuele Farrugge e il responsabile veterinario dell'aria accese Marcello Grasso hanno minuziosamente verificato la solubilità dei banchi e degli attrezzi di lavoro in uso agli addetti del consorzio è stato un esempio di grande sinergia dell'amministrazione pubblica tra ASP intendo spresa alle servizi veterinari i carabinieri del NAS che ci hanno collaborato tanto e come vedete da un'azione repressiva poi nasce qualcosa di bello che è un mercato che ha un buon indotto economico e che quindi era giusto riaprire nel momento in cui avesse osservato tutte le cautele sanitarie Voltiamo pagina continua l'emissione di cenere dai crateri sommitali dell'Etna da questa mattina registrato un significativo aumento del fenomeno già nei giorni scorsi l'Istituto Nazionale di Geofisiche e Vulcanologie di Catania dalle immagini della rete di telecamere di sorveglianza aveva osservato la fuoriuscita di pulviscolo lavico da quasi tutte le bocche crateriche l'ampiezza del tremore vulcanico si mantiene su valori medi la situazione al momento non desta particolare pericolo per la popolazione la cenere spinta dal vento sta ricadendo alla base del vulcano e non sta interessando l'aeroporto Fontana Rosse di Catania che il Sinodoro è rimasto sempre operativo la norma del codice degli appalti della regione è stata impugnata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri incontro in regione tra il governo le parti datoriali e sindacali in conflitto tra loro intanto questa mattina l'assessore regionale alle infrastrutture ha svolto un sopralluogo lungo il ponte abbattuto tra Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia vediamo quello del ribasso d'asta con assegnazione dell'appalto al miglior offerente non è criterio che garantisce il lavoro e regola d'arte il dato è acquisito purtroppo sebbene lo spirito della norma sia apprezzabile e tesa a garantire risparmi da riutilizzare proprio nel sistema dagli appalti pubblici da qui l'esigenza di riformare lo schema di assegnazione degli appalti garantendo efficienza trasparenza regolarità dei flussi finanziari gestione e affidabilità degli appalti che poi è lo spirito della riforma varata dal governo musumeci impugnata però dalla presidenza del Consiglio dei Ministri che lascia essere fatti anche i rappresentanti delle categorie datoriali che ieri si sono ritrovati attorno ad un tavolo costituito dalla regione siciliana il principio è e non potrebbe essere diversamente se non quello della tutela della macchina pubblica quindi del cittadino ma anche delle imprese perché queste si confrontino realmente con regole certe e chiare per tutti i sindacati però chiedono che la norma sia abrogata mentre le categorie datoriali affermano l'esatto opposto ieri come dicevamo un tavolo comune per capire quale strada il governo regionale debba seguire i sindacati hanno detto che la norma andrebbe abrogata le categorie datoriali dicono invece che la norma va sostenuta noi stiamo incontrando prima gli uni e poi gli altri per prendere una decisione è chiaro che comunque vi devo dire l'idea del governo è quella di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale perché riteniamo la bontà della stessa norma e riteniamo che questa norma serva per attutire gli eccessivi ribassi d'asta per creare e realizzare opere pubbliche a regola d'arte e per snellire anche le stesse procedure di gara intanto questa mattina l'assessore regionale alle infrastrutture ha effettuato un sopralluogo nell'area dell'ex Ponte Gracia mister bianco lungo la strada statale 121 Catania a Terna l'infrastruttura di collegamento con il comune di Motta Sant'Anastasia a settembre lo ricordiamo era stata demolita d'urgenza dall'ANAS a causa di un pesante danneggiamento dovuto ad un incidente stradale l'assessore incontrando tecnici e stampa ha fatto il punto sulla ricostruzione che è stata finanziata interamente dal governo regionale entro mercoledì firmeremo questa convenzione tra regione comune e ANAS dando all'ANAS l'impegno di realizzare la ricostruzione giovedì pomeriggio ci sarà l'atto deliberativo impegneremo ben 2 milioni 400 mila euro circa dopodiché convidiamo che i calcoli la verifica dei calcoli sulle spalle dell'impalcato possa concludersi entro i prossimi 15-20 giorni per cui entro la metà di novembre possono iniziare i lavori di ricostruzione dobbiamo collocare delle travi in calcestruzzo per compresso dopodiché ricostruire anche la sede stradale il lavoro in sé non è lunghissimo in un mese e mezzo dovrebbe essere realizzato superato l'ostacolo della gara quindi si farà un accordo quadro che non ci sarà la gara io credo che questo aiuti moltissimo a rendere i tempi ancora più celeri per la realizzazione ripeto sono contento perché ho visto che c'è stato un interessamento da parte della politica con particolar riferimento dell'assessore che è presente e sta vivendo in prima persona questo disagio che stanno vivendo le due comunità mi sento di dire che di rassicurare rassicurare entrambe le comunità soprattutto quelli che lo vivono di più quelli di Motta e di Mister Bianco che c'è un intervento veramente pronto e immediato da parte della regione la cronaca locale adesso andiamo subito a Catania protestano i residenti di un complesso edilizio in via Badia San Giovanni Galermo domesse sono senza acqua a causa di un rimpallo di responsabilità tra la sidra e l'amministrazione delle residenze vediamo monta la protesta dei residenti di via Badia San Giovanni Galermo acqua con la contagoccia o addirittura inesistente negli ultimi 30 giorni con grave problematiche per la circa 300 famiglie che abitano in quella zona per oltre un migliaio di abitanti complessivi conduttura obsoleta all'interno delle residenze e acqua che si disperde con gli addetti della sidra che nei giorni scorsi hanno provato ad effettuare degli interventi senza tuttavia riuscire a risolvere la problematica per via di un rimbalzo di responsabilità tra lo stesso Acquedotto e chi amministra il complesso di palazzine il problema dell'acqua persiste da circa 30 giorni ma sicuramente ancora dobbiamo aspettare o anni o decenni o non si sa quanto però noi siccome non possiamo vivere neanche nelle nostre abitazioni ci sono bambini ci sono madri di famiglie che devono anche lavare pulire devono anche dare un servizio a casa perché comunque l'acqua è il primo di bisogno cerchiamo qualcuno che ci aiuti perché l'ente dà la colpa alla ditta sidra che non vuole intervenire perché è privato il privato frega di noi i cittadini quindi noi non possiamo vivere neanche nelle nostre abitazioni perché è un problema non grave gravissimo e qua non capisco che ancora nel 2020 si parla che il privato non può intervenire perché c'è una situazione democratica interna che noi non sappiamo perché ieri è già venuta la sidra a fare un sopralluogo com'è andata diciamo che la sidra ha fatto un sopralluogo perché ovviamente abbiamo tartassato da circa un mese per queste segnalazioni che è evidente è venuta diciamo a chiudere un po' l'acqua a vedere con i persostati per la pressione e la pressione c'era ma la pressione ovviamente chiudendo un circuito ovviamente la pressione va a spaccare dei tubi che non sono a corrente della pressione che ovviamente è diventata proprio devastante infatti si sono scoperte delle giare dei galleggianti proprio un macello via Baria che non si può neanche più dire che via Baria perché sembra che siamo in Africa Massimino non si interessa di niente perché qua dice che è privato qui dentro perciò non si vuole interessare più qua per avere le cose fatte va l'appartamento l'ha venduto tutti e lui qua neanche si fa vedere una situazione è divenuta insostenibile per la quale i residenti chiedono risoluzione immediata qua non viene nessuno a fare i lavori punto questa qua è la situazione siamo qua all'Africa per davvero siamo circa 300 famiglie quelle che siete residenti qua per oltre un migliaio di persone sì più o meno sì 300 famiglie siamo qua più di 1000 persone siamo e siamo senza senza acqua da più di un mese quindi questa situazione ci ha portato tutto ora a questo scasso dell'acqua perché ora aumentando la pressione di più perché è stata chiusa sempre dalla sitra attenzione dalla sitra un passaggio di conseguenza cosa è successo che anche se c'è un'altra perdita tutte le altre perdite quelle che erano le chiuse scoppiano infatti in appartamenti sono scoppiati gli autoclavi e quindi le persone sono state chiamate al lavoro alcune ragazze e subito di conseguenza sono andate a casa perché dovevano chiudere l'acqua in qualsiasi modo e loro dicono loro dicono perché noi non lo sappiamo più in quale acqua siamo perché sono 40 anni che i lavori ce li hanno sempre fatte invece ora sono scaturiti che non vogliono fare le riparazioni della conduttura che porta ai diciamo alle collanine dei condatori rimaniamo a Catania ci spostiamo lungo la scogliera i Lions per l'ambiente militari americani associazioni di volontariato comune di Catania i Lions appunto tutti insieme stamani per ripulire la scogliera catanese tanta buona volontà sano volontariato ma purtroppo sono ancora troppi gli incivili che danneggiano il patrimonio pubblico naturale chili di plastica vetro carta abbandonati qui come spesso accade purtroppo nella scogliera prospicente piazza Nettuno a Catania a far nuovamente respirare queste coste stamattina i Lions i militari di Sigonella associazioni di volontariato e il comune di Catania tutti insieme con guanti e sacchi neri per ripulire uno dei litorali più belli ma anche più maltrattati della città oggi con la collaborazione non soltanto dell'ospedale militare nato di Sigonella ma anche con l'amministrazione comunale di Catania sempre presente attiva concreta e fattiva e operosa nel dialogare collaborare e concertare con noi siamo presenti con la zona 14 con i club di Catania Portulisse Catania Gioeni Catania Catania e Catania Valdirillo devo dire una grande festa e soprattutto anche la presenza dei giovani Leo ecco questo è in sintesi quello che noi stiamo facendo in questa parte di territorio catanese e devo dire che è una bellissima attività quella che si sta svolgendo la dimostrazione come questo che diventa un'associazione che potrebbe solo esclusivamente fare beneficenza invece anziché fare beneficenza nel tempo è diventata anche di solidarietà trasformando questa in sussidiarietà pura promotore dell'iniziativa il presidente Giorgio Blanco per dare un messaggio forte alla cittadinanza di sensibilizzazione verso il tema del rispetto dell'ambiente e verso il piacere di avere una città di Catania che è la nostra casa comune come una città pulita cerchiamo di correggere certi comportamenti errati anche dando degli esempi fattivi e concreti e mi auguro che l'iniziativa di oggi vado in questa direzione e possa dare un contributo appunto al miglioramento della cosa comune si rinnova questa partnership con i Lions catenesi e non solo oggi c'è la presenza del governatore Collura dei Lions che ad agosto ci ha premiato ad Agrigento proprio per il volontariato civico e ambientale che facciamo sul territorio e questa è un'altra opportunità per aiutare i Lions così come abbiamo fatto anche con altri club service a lanciare un messaggio di protezione dell'ambiente soprattutto del nostro ambiente marino purtroppo questi bellissimi luoghi di Catania si riducono nel degrado perché c'è qualche incivile che si ostina ancora oggi a non rispettare regole elementari e quindi gettando la plastica tra gli scogli questa poi finisce a mare e sappiamo che conseguenze comporta la plastica nei nostri mari e poi passare un giorno con gli amici con la famiglia tra questi scogli e trovarsi in mezzo ai rifiuti non è carino quindi chi sporca dovrebbe ricordarsi che domani può toccare a lui stare qui in mezzo a quello che lui ha sporcato ci sono tanti cestini l'aria è servita da tanti contenitori quindi non è difficile rispettare l'ambiente e voglio mandare un messaggio a chi oggi rispetta queste elementari regole non è più sufficiente soffermarci ad essere in regola noi cerchiamo di sensibilizzare qualcuno che è vicino a noi che ancora oggi si ostina a non rispettare l'ambiente ecco la missione che dobbiamo portare avanti adesso è questa La Cireale adesso viabilità in attesa della via libera al progetto delle due rotatorie previste su Viale Cristoforo Colombo alla prima all'incrocio con Via Lazzaretto la seconda nell'intersezione con Via degli Olivi la polizia municipale cambia la circolazione per i mezzi provenienti da piano d'api e riduce i tempi di attesa ai semafori vediamo il progetto per la realizzazione della rotatoria in sostituzione del crocevia tra via Lazzaretto e Viale Cristoforo Colombo ha ottenuto la copertura finanziaria di un milione e duecentomila euro la rimanente parte di circa duecentomila euro la metterà il comune 10 Reale nel frattempo la polizia municipale ha avviato un progetto sperimentale di riduzione dei tempi di attesa al semaforo spegnendo i segnalatori e modificando con delle barriere alla circolazione per i mezzi provenienti dalla frazione di piano d'api allo scopo di ridurre i tempi di attesa e in previsione della rotatoria si tratta della prima rotonda delle due previste lungo una delle arterie più trafficate della città l'altra dovrebbe sorgere nella confluenza viare con Via degli Olivi in corrispondenza del centro polifunzionale dove insiste il grosso degli uffici comunali l'assessore ai lavori pubblici Carmelo Grasso da mese impegnato a perfezionare la documentazione necessaria e a reperire i fondi del bilancio comunale ad integrazione di quanto ottenuto dalla cassa depositi e prestiti che ha finanziato parte dell'opera e dalla regione i tempi di esecuzione rimangono incerti in quanto il comune 10 reale ai vincoli del piano regolatore scaduti e ogni ipotesi di esproprio dei terreni adiacenti potrebbe essere impugnata dai proprietari allungando così i tempi di apertura dei cantieri pertanto dall'assessorato i tecnici incaricati procedono a piccoli passi e con prudenza stesso discorso per l'altra rotatoria prevista nel tratto tra via degli Ulivi e via Cristoforo Colombo la cui realizzazione legata inoltre al progetto San Cosmo che prevede il ripristino dell'intera tratta viare di scorrimento veloce l'assessore Grasso lavora per unificare i piani in un unico programma di intervento accantonata definitivamente la terza rotatoria di via Loreto lungo la direttrice con la frazione di Balatelle regolata ad impianto semaforico nella intenzione dell'amministrazione un dispositivo intelligente regolerà i flussi noi abbiamo acquisito l'aggiornamento prezzi del progetto e obiettivamente l'ho detto ogni consiglio comunale uno dei primi obiettivi perché l'ingresso alla città via Cristoforo Colombo deve essere riqualificato sia agendo sul manto stradale ma anche agendo su opere infrastrutturali in questa rimodulazione del progetto mancano circa 240 mila euro che già col dirigente dell'area tecnica abbiamo recuperato all'interno del PEG quindi a breve vedremo di lanciare le procedure per realizzare quest'opera importante per la città di Ecireale la giunta regionale ha deliberato la soppressione dell'istituto autonomo case popolari e l'istituzione dell'ARCAS agenzia regionale per la casa e l'abitare sociale la proposta di legge prevede inoltre la chiusura della sportella cesa che sarà accorpato con Catania la giunta regionale ha approvato un disegno di legge di soppressione dell'EICP e la contestuale istituzione dell'agenzia regionale per la casa e l'abitare sociale ARCAS la normativa prevede inoltre l'accorpamento con Catania e dello sportello di Ecireale che hanno le proprie competenze alla gestione di diverse unità abitative di edilizia popolare l'ARCAS nell'intenzione del legislatore regionale avrà natura aziendalistica di ente pubblico economico con risparmi di spesa si legge nella di Libra con un unico presidente consiglio di amministrazione direttore generale con significativi di immediati risparmi di spesa assicurando contestualmente la propria presenza negli ambiti territoriali già garantiti dagli stessi IACP impiegando le relative risorse umane strumentali e finanziarie la proposta di riforma prevede inoltre la possibilità di partenariato con i privati nello specifico cooperative ed operatore del terzo settore accreditate e selezionate con procedure ad evidenza pubblica il riordino del sistema di assegnazione delle case popolari su proposta dell'assessorato le infrastrutture alla mobilità non modifica le competenze dei comune ai quali è demandata la ricognizione dei fabbisogni abitativi a livello territoriale e le funzioni amministrative nelle procedure di selezione per l'assegnazione delle unità abitative agli eventi diritto la delibera di giunta nell'ottica di razionalizzare le spese sopprime la sede degli ACP di Ecireale accorpandola con l'ufficio del capologo di provincia la decisione del governo regionale è stata impugnata dal sindaco Stefano Lì che informerà il consiglio comunale per le determinazioni del caso è chiaro che ACP ha un problema abitativo significativo la graduatoria che io sto chiedendo che venga aggiornata quella che oggi è vigente è del 2001 e ci sono circa 800 richieste e poi nella mia attività da sindaco spesso ho incontri con persone con famiglie che lamentano proprio l'esigenza di avere un'abitazione che in questo momento invece sono costretti o a coabitare o addirittura ci sono persone che mi sono costrette a vivere in macchina quindi è un tema molto 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 grave tra l'altro si pone anche un'altra questione quella della manutenzione della realizzazione eventualmente di nuovi alloggi popolari con la soppressione di questo ufficio il cereale perde un'altra dopo l'Inps un'altra possibilità di gestione diciamo in parte autonoma dei propri beni sì diciamo che perde soprattutto anche uno sportello che potrebbe essere amico perché uno sportello un ufficio da Cireale quindi rapporti anche diretti io spesso ho incontro il Presidente però avere invece sicuramente verranno continuati i progetti verranno portati avanti ancora da Catania però l'interlocuzione normale che ci può essere legata ai problemi di manutenzione viene meno viene più viene complicato l'amministrazione su questo tema intende battersi ma io oggi c'è Consiglio Comunale faccio una comunicazione su questo tema e spero che tutto il Consiglio dia supporto perché è una scelta in cui l'amministrazione io può solo rappresentare il problema è importante avere anche una 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 forza a Palermo a Lars perché è lì che poi dove si fanno queste scelte Cronaca adesso il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Sicilia Orientale Andrea Annunziata è stato sospeso dalla sua funzione dal GIP del Tribunale di Catania perché indagato per peculato falsità materiale ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e abuso di ufficio dalle indagini della Guardia Costiera sarebbe emerso che avrebbe ripetutamente utilizzato a fini personali i fonti dell'ente tramite falsi mandati di pagamento per imborso spese a trasferte per complessivi 27.000 euro secondo la Procura sarebbero stati indebitamente messi a favore del Presidente di persone estrane all'ente portuale che avrebbero partecipato senza averne alcun titolo a trasferte in Florida la disinvoltura nella gestione privata del denaro pubblico nonché del mancato rispetto per le più elementari regole di buona amministrazione e l'accusa sottoscritta dalla Procura è riferibile anche all'impiego da parte di annunziata di uno dei dipendenti dell'autorità portuale quale persona fa totum che invece era stato assunto dall'ente con tutt'altro incarico e qualifica a Giarre adesso dove i carabinieri dei NAS hanno scoperto un falso nutrizionista nel centro urbano di Giarre operava grazie all'attività di monitoraggio dei social network i carabinieri lo hanno appunto individuato nonostante fosse privo di qualunque titolo di studio specifico sottoponeva a visite ai pazienti elaborando anche delle diete personalizzate al falso nutrizionista sono state sequestrate centinaia di schede dietetiche intestate a persone la maggior parte delle quali totalmente ignare del fatto di trovarsi di fronte ad uno soggetto per nulla abilitato a svolgere la professione sanitaria e senza il possesso di alcuna laurea in biologia o scienze della nutrizione così come spiegano i carabinieri lo stesso è stato denunciato alla procura della Repubblica di Catania per il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria di nutrizionista voltiamo pagina inaugurato stamani uno spazio espositivo all'interno del museo dello sbarco alle ciminiere l'iniziativa è dedicata questa volta alle vittime civili del secondo conflitto mondiale per tenere sempre viva la memoria è stato inaugurato un nuovo spazio espositivo dedicato alle vittime civili del secondo conflitto mondiale all'interno del museo dello sbarco 1943 nel centro feristico le ciminiere di Viale Africa a Catania il nuovo allestimento è stato inaugurato stamattina alla presenza del sindaco metropolitano Salvo Pogliese alla realizzazione del nuovo spazio espositivo ha fattivamente collaborato lo storico giornalista Ezio Costanzo con importanti indicazioni sul contenuto e la collocazione di pannelli filmati e vetrofanie il museo dello sbarco è una realizzazione museale di valenza internazionale che ha eccezionali potenzialità di crescita da quando ci siamo insediati nel giugno 2018 abbiamo avviato in sinergia con il professore Ezio Costanzo una campagna di valorizzazione di promozione che sta determinando eccezionali risultati basti pensare al 20% in più di biglietti venduti oggi si registra un ulteriore step che determina la crescita dell'offerta culturale di questo museo focalizzando l'attenzione su un aspetto che troppo spesso la storiografia ufficiale ha volontariamente omesso ovvero raccontando il dramma vissuto dai civili durante la seconda guerra mondiale e negli anni successivi alla seconda guerra mondiale attraverso per esempio alcune esplosioni di bombe inesplose durante il conflitto mondiale da parte degli angloamericani ai tempi quando allora si realizzò il museo nel parlo del 2003 io facevo parte anche del comitato scientifico come dire c'è stata questa questa poca attenzione lo ammetto poca attenzione anche riguardo quello che furono i protagonisti assoluti della seconda guerra mondiale che erano i civili la popolazione civile si è pensato un po' meno a dare spazio visibilità e a raccontare la storia dei civili oggi questo diciamo vuoto va colmato grazie all'associazione nazionale vittime civili di guerra che ha realizzato a proprie spese donato al museo dello sbarco questa sala di 30 metri quadrati circa al secondo piano allestita appunto con informazioni pannelli uno spezzone video di testimonianze e quindi che va a colmare ripeto quello che era una carenza anche del museo all'inaugurazione odierna presenti anche i soci del presidente nazionale dell'associazione vittime civili di guerra l'avvocato Giuseppe Castronovo io ho perduto a nove anni l'ha vista con un ordigno bellico inesploso che allora eravamo due bambini l'abbiamo lui ha perduto una mano e io l'ha vista oggi siamo 120.000 c'è stata l'assemblea provinciale a Catania dove ancora nella provincia di Catania siamo 800 vittime civili di guerra nella provincia parlo quindi nel mondo siamo 65 milioni di vittime civili di guerra noi siamo affinché non ci sia più neanche la parola guerra è solo venga praticata vissuta e operativa la parola pace 9 euro per quasi 2 kg di mele c'è tempo fino a domani in circa 70 punti di solidarietà dell'area metropolitana di Catania per sostenere l'Aism l'associazione italiana sclerosi multipla c'è tempo sino a domani per aderire alla mela dell'Aism manifestazione organizzata dall'associazione italiana per la lotta contro la sclerosi multipla che ogni anno impiega migliaia di volontari a Catania sono circa 70 i punti dislocati per poter acquistare le mele che fanno bene e fanno del bene qui siamo su piazza stesicoro dove è possibile anche fare una semplice donazione chiamando il 45512 o lasciare un importo simbolico torna questa iniziativa lodevole che ogni anno riscontra grande successo ma c'è ancora tanto da fare assolutamente sì noi oggi siamo in realtà abbiamo cominciato ieri e anche l'altro ieri nelle scuole facciamo sensibilizzazione e facciamo una raccolta fondi perché senza fondi non si riesce a fare ricerca scientifica per trovare la cura definitiva della scuola di multipla e anche per migliorare la qualità di vita delle persone con la scuola di multipla e in 50 anni di storia l'abbiamo fatto in maniera abbastanza significativa oggi c'è la possibilità oggi domani ma anche la prossima settimana noi continuiamo fino a quando le mele non vanno tutte via per finanziare una parte al 50% la ricerca scientifica e il 50% i servizi sul territorio che sono importantissimi facciamo supporto all'autonomia domiciliare e extra domiciliare assistenza domiciliare e extra domiciliare supporto psicologico supporto legale con i nostri avvocati attività socio-ricreative facciamo volare le persone che non possono neanche camminare col paragadute cosa bellissima io non lo farei però loro l'hanno fatto tante bellissime cose diamo tanti sorrisi e diamo la speranza che si può anche convivere con la malattia che non è una malattia che porta a morte è una malattia però che porta a gravi difficoltà e noi siamo qui a combattere per loro per 122.000 persone con scolotti multi-class 9 euro è una cifra simbolica per un chile 8 di mele le mele fanno bene ma fanno bene anche a chi si trova in una condizione di disagio assolutamente infatti noi quando diciamo il valore non il costo è il valore proprio della donazione e tra l'altro anche con i bambini portiamo le mele nelle scuole perché è il simbolo della salute e in più diciamo ai bambini guardate che con questo contributo fate tantissimo per scomperare figgere questa anzi come potete vedere bene far sparire la scolosi multi-class potrebbero aprirsi scenari elettorali anticipati a Mascaluccia nel Cataneis dove il sindaco Vincenzo Magra avrebbe manifestato la intenzione di dimettersi per contrasti interne all'ampia maggioranza che nel 2018 l'aveva portato sullo scanno più alto del palazzo di città ieri una riunione di maggioranza che era stata convocata per chiarire alcune posizioni ma pare che ancora la quadra non sia stata trovata dunque il sindaco avrebbe manifestato anche la intenzione di dimettersi e dunque mandare Mascaluccia alle urne ma pare che ancora le dimissioni non siano state protocollate o firmate bene rieccoci in studio ma solo per i saluti finali dalla redazione infatti nessun aggiornamento termina qui la prima edizione di Oratg che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in Sicilia di Reitv che avete seguito sul sito internet www.reitv.it o sui canali social di Reitv Facebook e Youtube prossimo appuntamento con Oratg questa sera alle ore 19.45 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di giornata a voi tutti queste le previsioni meteorologiche per la giornata di domani domenica 6 ottobre nella nostra regione inizialmente soleggiato ma a partire dalle prime ore del pomeriggio aumento della nuvolosità in maniera più intensa nel settore centro-occidentale i venti saranno moderati prevalentemente dai quadranti occidentali con rinforzo lungo la costa settentrionale in attenuazione in serata i mari mossi tutti i bacini le temperature saranno costanti i valori maggiori verranno registrati tra il Catanese e il Siracusano per quel che riguarda le minime le temperature più basse verranno registrate a Enna con 11 gradi a Caltanissetta con 13 a Caltanissetta un nuovo e... un nuovo passale a Caltanissetta con 13 a Caltanissetta . Autore dei sovrapposti